Domenica a Reggio Calabria inizia il nuovo ciclo della palla spicchia velinese targato Delfes e il Robustelli 2.0 su una panchina bianco-verde dopo l'annata alla Scandone. L'head coach presenta la sfida contro la Viola di Bolignano e promette massimo impegno per regalare alla piazza una stagione degna del blasone di Avellino. Sicuramente sarà una partita molto difficile, affronteremo una squadra dalla grande tradizione che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno costruendo un roster molto competitivo con dei chiari punti di riferimento negli esterni con Balic e Ingrosso, due giocatori dal grande talento offensivo e con la fisicità e l'atletismo di Duranti e Fall sotto le plance. Sappiamo che sarà una partita dura ma abbiamo una gran voglia di ripartire e di partire soprattutto con il piede giusto. Abbiamo lavorato molto bene in questo precampionato, ci sono arrivate le indicazioni positive nelle ultime amichevoli, vogliamo continuare su questa strada. Siamo sicuri di dover affrontare una stagione lunga, una stagione difficile ma abbiamo tanta voglia di far bene e speriamo di poter regalare ad Avellino tutto il meglio che merita.